Essere un'azienda responsabile significa tutt'uno con chi lavora insieme a noi e l'ambiente che ci circonda. La nostra azienda si fonda su tre pilastri. Solidarietà, responsabilità sociale, salvaguardia ambientale e attenzione del territorio. Aiutiamo l'ambiente in cui viviamo, facendo la differenza. Napoletana Plastica, aiutiamo l'ambiente, costruendo sistemi che abilitano l'economia circolare. Napoletana Plastica Napoletana Plastica, aiutiamo il territorio.